Musica Siamo qui con il dottor Gianluca Maselli, amministratore delegato della Giuliano Industrial. Ci parli un po' della Giuliano Group. Giuliano Group è un gruppo che comprende quattro aziende, una di queste è Giuliano Industrial, di cui io sono amministratore delegato. Ci occupiamo a 360 gradi di attrezzature per l'assistenza ai veicoli e al pneumatico. In particolare Giuliano Industrial si occupa dell'assistenza al pneumatico, mentre Deidra si occupa dei prodotti per il controllo tecnico delle autovetture e tag del sollevamento. E il vostro mercato ne parli un po'? Noi lavoriamo su tutti i mercati del mondo, prevalentemente Stati Uniti e Estremo Oriente, anche in Europa, con tutti e tre i marchi, sia Giuliano che Deidra che Tag. E sicuramente, sì, decisamente molto più export che non Italia. Ecco, siamo qui in mezzo ai vostri prodotti, in mezzo alla vostra gamma. Qual è il vostro cliente ideale? Giuliano Industrial, come vi dicevo, si occupa di attrezzatura per l'assistenza al pneumatico, quindi il nostro cliente prevalentemente è lo specialista dell'assistenza al pneumatico, il gommista. Per questa edizione di Autopromotech presentiamo in particolare tutta la nuova gamma che avremo nel 2014, sia apparecchi per montare e smontare i pneumatici, che apparecchi per l'equilibratura. I vostri prodotti, in particolare quelli nuovi, come sono caratterizzati? Allora, noi stiamo cercando di dare due connotati fondamentali ai nostri prodotti, per quanto riguarda l'equilibratura, la velocità nell'esecuzione del ciclo, perché meno tempo significa più risparmio di denaro. Per quanto riguarda invece il montaggio e lo smontaggio, una sufficiente rigidità ai nostri prodotti, ai nostri prodotti smontagomme, che permettono al gommista di operare su tutti i tipi di pneumatici senza flessioni, quindi senza rischio. Grazie.